L'ultimo intoppo è un parere della Commissione Valutazione e Impatto Ambientale che pur non negando il proprio via libera costringe l'assessore Alberto Piero Bon a riscrivere alcune parti del piano rifiuti. I tempi tornano ad allungarsi e così le nuove regole sulla gestione della raccolta non entreranno in vigore prima dell'estate. Il tutto mentre all'Ars anche la riforma degli ato si avvia a scivolare in calendario non prima di aprile. Sono giorni cruciali per le misure che dovrebbero portare la Sicilia fuori dall'emergenza. Il piano rifiuti scritto un anno fa da Piero Bon è già una volta criticato dal Ministero dell'Ambiente e arrivato a dicembre sul tavolo della Commissione Via appena rinominata da musumeci dopo il Repulisti seguito al caso Arata. È un piano che descrive flussi di raccolta e indica le varie tipologie di impianti con preferenza per quelli di compostaggio su cui gli ato dovranno puntare per smaltire tutto all'interno di ogni provincia. E tuttavia proprio su questa parte cruciale, cioè sulla volontà di decentrare alcune scelte legate alle tecnologie e alle localizzazioni, la Commissione Via ha posto paletti che costringeranno a una parziale correzione di rotta. Altra prescrizione imposta dalla Commissione Via è quella che riguarda la localizzazione dei futuri impianti, bisogna evidenziare i limiti dai siti di interesse naturalistico. Fra quelle di maggior peso, l'ultima prescrizione impone anche di tarare i tipi di impianti da realizzare in base ai dati della raccolta differenziata, ma non quelli forniti dall'assessorato. Bisognerà fare riferimento alle rilevazioni dell'ISPRA. Bisognerà cioè fare riferimento ai dati raccolti da un ente nazionale che ultimamente non è stato allineato alla rilevazione della Regione. Va detto che l'obbligo di correggere il piano non si traduce in una bocciatura. Rispettate queste prescrizioni, il parere favorevole della Commissione si intende acquisito e il carteggio a quel punto potrà passare alla Commissione Ambiente dell'ARS, che dovrà pronunciarsi entro un mese dal ricevimento. E il penultimo passaggio acquisito il parere dell'ARS, la Giunta potrà mettere l'ultimo timbro e spedire il piano al CGA, che deve pronunciarsi a sua volta entro tre mesi. Poi le nuove regole entreranno in vigore. E non a caso, Piero Bon considera incassato il via libera della Commissione Via. Le prescrizioni sono di carattere non sostanziale. Entro fine gennaio aggiorneremo il piano.